Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, settimana numero 2 uscita, un sacco di sfide anche per questa volta più o meno difficili, dai, l'unica lo sappiamo tutti qual è, è quella col cannone, ma non preoccupatevi se ancora non l'avete fatta e aggiornamenti che continuano alla grande in questa Season 8 di Fortnite. Nel video di oggi ragazzi parleremo della skin Iconic che alcuni utenti hanno ottenuto in maniera gratuita. Parleremo anche degli stili di Omega, un altro degli argomenti più caldi di questi giorni, anche sempre, spesso e volentieri, in chat mi chiedete di dirvi qualcosa di più. Adesso vi darò delle notizie ufficiali e voglio anche farvi vedere per quest'oggi due trick davvero molto molto interessanti. Uno per compiere velocissimamente la sfida del cannone, il secondo invece per... ve lo farò vedere, ve lo farò vedere. Intanto ragazzi voglio ringraziare tutti di cuore per utilizzare il mio codice creator xyuderone. Grazie a tutti quelli che lo fanno, mi raccomando controllate di averlo ancora perché ogni tot giorni viene rimosso automaticamente. E grazie a tutti ragazzi per iscrivervi al canale in tantissimi e per attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei video e nessuna delle mie live. Ma prima ragazzi, non ve lo sto neanche a dire raga, prima voglio farvi la domandina. Va che è una domanda molto interessante oggi, i vostri commenti mi raccomando proprio qui sotto perché ci tengo tantissimo a leggerli. E la domanda di oggi, ma qual è stata la tua season preferita? Dai, la season 8 io ancora non la sto contando, la stiamo vivendo, non posso ancora esprimermi su com'è, ma secondo me la mia season preferita è stata la season numero 6. Continuo a confermare che mi è piaciuta tantissimo, io non ho giocato la 2, ho giocato tutte le altre season, la 1, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 e la 8, ma secondo me la 6 è stata la più bella per le skin che c'erano, per le ambientazioni, per gli eventi, insomma mi è piaciuta tantissimo. La tua skin, la tua season preferita? Commenta qui sotto, mi raccomando. Ma quindi ragazzi, ciancio alle bande e bando alle ciance, andiamo subito subito a parlare della skin Iconic. Oramai ragazzi la conoscete tutti, un breve riassunto, questa è la nuova skin promozionale del telefono Samsung S10 Plus. Una skin che attualmente usa, o meglio ha usato fino adesso solamente Ninja, il primo ad averla in esclusiva, skin che viene consegnata insieme al telefono con un balletto che si chiama Scenario. Non si è ancora ben capito se questo balletto ragazzi sarà esclusivo nel bundle della skin oppure potrà essere anche inserito nello shop classico e quindi acquistato con V-Bucks da parte di tutti gli utenti. Ma qualche giorno fa vi avevo detto ragazzi che ci fu un bug per alcuni utenti da mobile. Magari ci potresti essere stato anche tu. Per pochissimi minuti apparve la possibilità di acquistare la skin Iconic al prezzo di 0 dollari. O di 0 euro se siete ovviamente con la valuta in euro. Perché quando voi acquisterete, se lo acquisterete il vostro Samsung, nello shop troverete la possibilità di ottenere la skin senza dover pagare. Beh ragazzi vi avevo detto che non era possibile ottenerla e invece mi sbagliavo. Alcuni utenti ovviamente hanno cliccato sopra ma sarebbero stati dei pazzi a non averlo fatto. Ragazzi hanno ottenuto la skin. E se tu sei uno di quelli non c'è bisogno che ti nascondi. Perché arriva un comunicato ufficiale da parte di Epic Games su Reddit dove rispondono a un utente dove un membro dello staff dice ci fu un problema con l'outfit pack dell'Iconic skin per gli utenti da mobile che ha causato l'apparizione della skin in modo totalmente gratuito. Non preoccupatevi perché chi ha potuto ottenere la skin la potrà tenere. Quindi non gli verrà tolta. So che molti non l'hanno detto perché dicevi io sto zitto. Metti che mi sgamano ragazzi. Se ce l'avete inseritela mi raccomando perché non vi verrà tolta. Lo confermono direttamente da Epic Games. Ma andiamo avanti e parliamo di una delle sfide più magagnose, chiamiamola così, di questa settimana numero 2 che è la sfida del cannone. Quindi danneggiare un avversario con il cannone. Voglio farvi vedere un trucco fatto da me in live tra l'altro proprio ieri sera perché ci tenevo a condividerlo con voi in modo che possiate magari prenderne spunto per poter compiere la sfida. Qua siamo ragazzi al porto ovviamente di Laguna Languida. Quello sono io. Cosa ho fatto? Ho preso il cannone. Molto easy. Qua devi avvicinarti. Non puoi salire quindi spaccare la base di questa casa. Ok dovete spaccare il meno possibile. Cioè deve essere proprio una roba che la gente non si accorge neanche. Qua dovete avere un po' di maestria nel riuscire ad entrare con il cannone in questa abitazione. E dovete anche essere super super veloci a farlo ragazzi. Chiudete la porta. Se avete delle armi droppatele. Io non ne avevo. Ho voluto tentare la sorte. Se droppate le armi è un po' più facile. Qua spaccate le casse che ci sono dietro. Riprendete il cannone e vi infrattate nell'angolino. Guardate ragazzi. Non dovete assolutamente muovervi. Siete coperti da sopra con la scala e dal lato con l'altra scala. Il cannone è abbastanza invisibile o comunque confondibile con un oggetto in game. Scende un tipo dalla scala. Io mi fermo qua. Guarda 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 guarda. Appena ti passa davanti. Boom. Mega fire di cannone. Tipo che esplode. Cannone che viene rimbalzato indietro. Io non subisco danno. Il tipo crepa. E io automaticamente passo la missione. Quindi ragazzi un modo magari un pochettino più facile per cercare di fare la sfida. Potrebbe essere proprio questo. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo anche di una novità. Per quello che riguarda la nuova arma. Il nuovo fucile che doveva essere inserito in questa patch. Hanno rimandato. Ma hanno fatto un aggiornamento. Sono stati trovati i file audio. Quindi sappiamo anche. Io li ho sentiti però non mi fido a mandarveli. Perché mandare gli audio rischi gli strike grossi. Quindi non ve li mando sto giro. File audio inseriti. Vi ricordo fucile in rarità epica e leggendaria. 47 il danno della rarità epica. 52 il leggendario. Staremo a vedere se andrà a sostituire qualche altra arma. Ma un po' tutti speriamo che buttino via in magazzino il fucile da fanteria. Che continua secondo me ad essere attualmente l'arma più inutile del gioco. Ma chiudiamo ragazzi parlando degli stili di Omega. Allora Omega lo sappiamo tutti. Era la skin finale della season 4. Perché Omega è particolare? Perché è l'unica skin finale che non era possibile completare al di fuori della season 4. Arrivò nella season 5 il Ragnarok che però, se non ricordo male, arrivò nella season 5 il Ragnarok che però fu completabile anche nelle season successive. Mentre, parliamoci chiaro, i led viola di Omega non li hanno proprio tutti. Dovevate salire parecchio con il pass battaglia. È apparsa da un po' di giorni questa immagine che fa vedere appunto Omega di fianco al cuore nero e ibrido no. Ragazzi vi dico di no. È un fotomontaggio, è un fake. Non esiste assolutamente questa cosa. Non esiste la possibilità di avere Omega maxato purtroppo per chi non ce l'ha. Quindi ragazzi mettetevi il cuore in pace. Godetevi il vostro Omega con il colore dei led che siete riusciti a sbloccare. E dimenticatevene per adesso perché non sarà purtroppo più possibile maxarlo. Beh ragazzi io con questa notizia vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su eh. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi in tantissimi al canale. Noi ci vediamo alle 13 in live. Ciao! Ciao!